E allora, in questo allenamento voglio andare proprio a zeccare, a lavorare proprio sulle gambe, sui glutei. Allora per farlo andiamo in quello che si chiama Crescent Pose. Allora, è una posizione della yoga, ci allunghiamo le gambe destra in avanti, le braccia vanno sopra le nostre testa, ok? E come potete vedere il talone è sollevato, ok? Scendiamo e saliamo, vai! Uno, in su, due, su, continui, tre, e quattro, continui ancora così, cinque, sei, sette, otto. Adesso andiamo, portiamo le braccia in avanti e teniamo la posizione, teniamo in posizione in quella che stai provando di immaginare, ok? E' che c'è una fila dal talone fino alla testa, addominali rimangono tesi, ok? Stendiamo le braccia, posizionando il peso su il talone destro, ok? Torniamo su, porti il cocci in avanti e scendo. Uno, due, ancora. Tre, quattro, cinque, sei, sette e otto. Di nuovo, stendiamoci in avanti, di nuovo dal talone alla testa, lunghezza, addominali tesi, spingi sul talone, ok? Però stai provando comunque di tenere tutto in modo energetico, ok? Tieni l'energia, stendi, ancora, tre, due, uno, and relax. Adesso cambiamo la gamba, porti la sinistra in avanti, ok? Genocchio sopra il talone, stendi le gambe indietro, sollevando il talone, i bracci vanno sopra, porti il cocci in avanti, ok? Di nuovo, otto, sette, spingi bene 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 sul talone, ok? Ancora, sei, cinque, quattro, tre, due, e andiamo ad allungarci, teniamo la posizione, ok? Spingi bene sui taloni, sì, ok? Energia fino proprio alla testa, ok? Di nuovo, torniamo indietro, scendiamo. Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, allunghiamoci, allunghiamoci, teniamo proprio le braccia in avanti, ok? Abdominali tesi, tieni, tieni, tieni la posizione, ok? Continui, quattro, tre, due, e sollevo, bravi! Adesso andiamo avanti con il prossimo allenamento insieme. Facciamo un esercizio pazzesco, sia per i gambe che i glutei, ma anche per il sistema bruciagrassi, perché ti alza il battito cardiaco tantissimo. Ricordando sempre che con questo esercizio gag turbo lo puoi fare anche più di una volta, così se lo volete fare due volte o addirittura tre volte, avete assolutamente tutto il mio poggio, anche se, devo dire, sono belle tosti queste. Allora, scendiamo giù, si chiama il jaguaro, ok? Immaginiamo di saltare come il jaguaro. Uno, due, tre, quattro, cinque, spingi dal tallone, sei, sette, otto, nove, e dieci. Qua! Ok, ricupero, 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 prepari l'altra gamba. Ok, portiamo la sinistra in avanti, dobbiamo fare solo dieci. Ripeto, se vuoi fare di più, lo volete ripetere questo esercizio, fanno pure, però come puoi vedere sono belli tosti questi. Ok, siamo pronti? Dieci. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Sì, bravi. Allora, come ti ho detto, bello tosti, ti aspetto il prossimo esercizio insieme con Turbo Gag. Alla base di ogni allenamento per i glutei ci sono i squat, però oggi voglio fare una squat un po' diversa, sarà una squat incrociato. Allora, partiremo con le gambe incrociate e poi, quando affondiamo, affondiamo con un piccolo salto in uno squat. Su, chiudo, giù, squat. E ogni volta incrocio l'altra gamba in avanti, ok? Destra avanti, scendo giù. Sinistra avanti, scendo giù. Su e indietro, ok? E ogni volta ricordati proprio di affondare sui taloni, ok? Su e squat. E su e squat. Interna coscia e glute. Interna coscia e glute. Continua. Otto, scendo. Sette, scendo. Sei, cinque, quattro, tre, due, e uno. Continui, aprino. Otto, scendo. Sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. E stop. Eccellente. Lo potete anche sempre ripetere con TurboGag. Ogni esercizio può essere ripetuto ad infinito, volendo. Rispetto al prossimo esercizio insieme. Passate una bellissima giornata. Se chiedi a qualsiasi allenatore sulla pianeta, dice voglio lavorare i glutei, ti dirà una parola. Squat, fai squat. Squat è non finire squat con carichi, squat in ogni salsa. Però io voglio fare una squat un po' diversa, perché le squat ovviamente sono eccellenti, ma voglio fare uno squat particolare. Allora, scendi giù, ok? A questo punto non ci risolviamo più. E noi avanziamo uno, due, tre, e quattro e saltiamo piccoli jump squat indietro. Poi sinistra. Uno, due, tre, e quattro indietro. Poi destra. Uno, due, tre, e quattro. E stai basso con il petto, ok? Indietro, destra, vado. Indietro, sinistra, vado. Destra, vado. Sinistra, vado. Talone, talone, e ancora. Talone, talone. Sinistra, destra, vado. Indietro, vado. Talone ancora, lato Indietro Ancora quattro Destra Sinistra Destra ancora, ultima due E ultima Indietro Eccellente Questo è Turbo Gag Se volete farlo un'altra volta Fallo pure o concatena Questo esercizio o un altro ancora Ma fallo almeno 5 minuti al giorno Per avere il massimo del tuo corpo E perciò della tua vita Alla prossima, ciao! Pronti per un altro esercizio Per il nostro Turbo Gag Facilissimo Una delle mie preferite Perché i glutei a un certo punto Della vita cominciano a svuotarsi E questi sono basici Ma veramente efficaci Le cose quelle che devi ricordare E di fare tutti i giorni O almeno 3 volte alla settimana Se vuoi veramente che il tuo gluteo Non ti abbandona La devi allenare Ok? Però, ripeto Cioè, è più facile di quelle che pensi 7 minuti 10 minuti Basta I giochi sono fatti Poi il lavoro aerobico È un'altra cosa Saltare sul trampolino È un'altra cosa Ma per tenerci i nostri glutei in forma Alziamo la gamba destra E incrociamo sopra l'altro ginocchio Il piede è martello Sollevo E torno giù Dobbiamo fare 50 per lato Ok? E state provando di lasciare L'impronta del tuo piede A soffitto Ok? Incrocio E sollevo Ok? E vedi? Già 10 sono andati Ok? 9 Lascia che le spalle rimangano belle morbidi Ok? Abdominali Belli tesi E non inarcare la schiena 20 Continui Ok? Perché stai provando di isolare il movimento sul gluteo Incrocio Sollevo Incrocio Sollevo Continui Ancora 4 3 2 30 Continui 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Ecco 40 8 10 Da questo lato 9 8 7 6 5 4 3 2 And relax Recupero un attimo Ricordi che devi stringere il gluteo Non lavorare di schiena Lavora soltanto che la gamba solleva E poi c'è una contrazione finale del gluteo Appoggiamo Piede a martello 90 gradi Croce sull'altra gamba E in diagonale Sollevo Ok? Sempre 50 Movimento molto compatta Ok? Non devi fare movimenti strani con la schiena Con le braccia Ok? E 10 Continuiamo 10 9 8 7 6 5 Abdominali tesi Non inarcare quella schiena Controlla Guarda giù Controlla che la forma è corretta Ok? Ancora 10 9 8 In diagonale In diagonale Non sali e scendi soltanto Ma stai in diagonale Facendo Tracciando un diagonale con la gamba Ancora Mancano 20 8 7 6 5 4 3 2 E gli ultimi 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 E stop Eccellente Un altro esercizio del nostro Turbo Gaga Dispetto al prossimo esercizio insieme